Benvenuti in questa nuova puntata, sono Federico Ronzoni e Bitcoin ha 23.234 dollari. Devo essere sincero, questa cosa qui non mi sta stupendo per niente. Bitcoin non sta facendo altro che la sua lateralizzazione. Ora, il mese di febbraio è ormai arrivato alle porte. Siamo al 27, domani il 28, l'ultima giornata per quanto riguarda il mese di febbraio. Il febbraio che si è chiuso con un più 0.42 e finalmente si può vedere una sorta di perdita, perdita di forza per quanto riguarda questo trend rialzista che ha fatto un più 40% in gennaio. Io personalmente ve l'ho già detto tante volte, vi ho già detto molte volte come io non mi aspetto un bel niente da questo 2023. Quello che mi aspetto è un anno bene o male laterale che ha una tendenza di accumulo per poi il bull market che arriverà forse nel 2024, 2025, quando anche a livello macroeconomico la situazione migliorerà. Quando l'inflazione davvero scende, quando veramente la Fed inizia ad abbassare i tassi di interesse. Attualmente ricordiamo che siamo in una situazione macroeconomica che è ancora orribile, ancora una situazione macro in cui la Fed alza i tassi di interesse. L'inflazione scende sì ma non è che scende chissà quanto. I prezzi al supermercato ragazzi, state vedendo, continuano ad aumentare sempre di più. Quindi c'è ancora un'inflazione molto alta, è una situazione in cui ancora, soprattutto dopo un calo del genere, che è quello che ha vissuto Bitcoin, se anche questo abbiamo constatato che sia stato il minimo, e io ve lo dico non ho la certezza che questo sia stato il minimo, ma dopo un crollo di questo genere ci sta tutto, meno 77%, ci sta tutto, un periodo in cui il prezzo di Bitcoin vada a consolidare. Che poi, a mio parere, questa consolidazione del prezzo si andrà a trasformare e diventerà appunto un'accumulazione per poi iniziare una nuova fase espansiva per quanto riguarda Bitcoin e ovviamente poi si allargerà anche su tutto il mondo cripto. Perché ricordiamoci che come vi ho scritto all'interno del mio gruppo Telegram gratuito Tartro, lo trovate il link qui sotto nella descrizione, mancano circa poco più di 400 giorni all'Halving, cioè è ancora presto per parlare di Halving, è ancora presto per dire, a mio parere, la Burran è iniziata, la Burran to the Moon. Quello che abbiamo visto a gennaio, adesso vedremo se continuerà a febbraio, a marzo, perché comunque tutto sommato uno potrebbe dire, sì, però guarda, in effetti ha perso, sì, ovviamente un po' di momentum, se vedete qui sul settimanale quattro candele verdi, ok? Due candele rosse. Una candela verde, due candele rosse. Quindi in realtà il momentum si è un po' perso, almeno a febbraio, e per questo si potrebbe pensare che magari marzo sarà un mese rosso, però ovviamente io, sapete, non prevedo futuro, non so dirvi quello che succederà nelle prossime settimane, nel prossimo anno, nei prossimi decenni. A mio parere comunque rimarremo tutto sommato in un 2023 laterale, in un 2023 che va a prendere tutta la macrozona che va dai 25, massimo, massimo 28.000 dollari, fino a portarci poi a un minimo intorno ai 18.400, ok? Ricordiamo che la macro struttura per quanto riguarda Bitcoin, almeno sul giornaliero, è questa, ok? Qui abbiamo un primo stop, una prima resistenza, potremmo andare ovviamente anche sui 28.000, 30.000, ok? Si può andare su, ragazzi, non è questo il problema. Il mio discorso è che tanti non gestiscono le aspettative, e che magari vedono un rialzo come questo, cioè vedono un rialzo di un più 40% e pensano che il prezzo può ancora salire. Ragazzi, non siamo in bull market ora. Cioè la fase di adesso attuale è una fase che viene dopo un periodo ribassista, che non è la fase, non è che c'è il periodo ribassista e poi subito il bull market, non esistono quelle cose qui. Dopo una fase ribassista è normale che ci sia un periodo in cui il prezzo inizia ad accumulare, inizia a consolidare, che è quello che sta succedendo adesso, che si potrebbe anche dire che praticamente da gennaio, che poi, vabbè, l'evento di FTX è un po' inaspettato, quindi se non ci fosse stato magari saremmo ancora a lateralizzare in questa zona qui, quindi tanti magari dicono, eh però sai, magari non avremmo neanche avuto questa eco bubble, questo rimbalzo così, perché non c'era mai, non c'era FTX, però uno dice, eh però sai, per forza di cose bisognerebbe, non so dirvi con i secoli ma, però tutto sommato è abbastanza chiara la situazione ora, stiamo lateralizzando, ok? Da un box che va dai 18.4 circa, fino ai 25.000 dollari. Questa è la situazione da giugno. Quindi, non c'è bisogno di stupirsi, se adesso il prezzo di Bitcoin da 25 scende un attimo a 23, se magari scenderà ancora più giù, arriverà a 20.000, 22, 20, 19, quello che è, non c'è da stupirsi. Ora, vediamo, perché comunque non è che stia andando così male, è un po' di forza la recuperata, io non so se effettivamente avrà le forze di superare i 25, e spingersi fino ai 28, addirittura c'è chi dice, ah ma supererà anche i 28, io sono e rimango abbastanza scettico, un po' anche apposta, nel senso che almeno le mie aspettative rimangono basse, e se ciò non accade, non sono deluso, e se invece ciò accade, benissimo, sono felice, perché ricordiamoci che anch'io in primi sono esposto nel mondo cripto, quindi se il prezzo sale mi fa solamente che piacere, però non posso, cioè, è una zona troppo importante di 25.000 dollari, abbiamo la media 200 sul settimanale, quindi magari potremmo fare un attimo una discesa, riprovare questa media qui, c'è proprio zone toste, cioè voi immaginate, avete questo supporto qui, questa resistenza, sotto anche la media 200, media che praticamente ha sempre tenuto il prezzo di bitcoin sopra, dal 2013 ad oggi, sì, qualche volta è sceso, ma di pochissimo, con una condizione macro di questo tipo, io veramente non sono molto favorevole, cioè non sono molto propenso a dirvi, adesso da qua una settimana, da qua un mese il prezzo salirà, poi ragazzi, se succede, ripeto, secondo me, se già a 25.000 dollari, è stato un ottimo risultato, perché poi è facile magari dire, ah, ho comprato a 24, adesso no, cioè se vuoi goderti questa salita, dovevi aver comprato a 16, 17, 15, ok, 18, già comprare a 23 è troppo, non ne vale la pena, dopo un rimbalzo di questo genere, per cui, la situazione al momento, è una situazione in cui il prezzo è effettivamente salito tanto, per cui non mi stupirebbe vedere un attimo di noietta, e poi rivedere eventualmente, magari riprovare a testare questa box qua sotto, poi magari ritornare a 25, vedere se magari Lucia, anche superare i 25, magari 26.000 dollari, 27, 28.000 dollari, questo fino al 2023. Tra l'altro, prima di continuare con la puntata, voglio ricordarvi che verso fine febbraio, ci risaranno i Bybit Byvotes, la dodicesima edizione, che è una cosa molto interessante, che fa Bybit, che adesso vi spiego. Allora, praticamente, circa una volta al mese, Bybit fa una sorta di competizione tra token, dove, praticamente, questi ultimi si giocano la possibilità di essere listati sull'exchange. Chi decide quali dei token verrà listato? Chi usa Bybit. Cioè, gli utenti scritti a Bybit, devono infatti votare uno dei progetti, e il progetto che vince, viene listato su Bybit. Tipo, nell'undicesima edizione, nell'ultima che c'è stata, ci sono stati tre progetti, che sono stati scelti da Bybit. Chi vince di questi progetti, viene listato su Bybit. Quindi, in questo caso, gli utenti hanno scelto questo token, che è stato poi listato su Bybit. Chi ha votato il progetto vincente, riceverà l'air drop gratuito, della crypto che ha vinto. E la quantità di crypto che riceverà, varierà in base a quanti punti, ha messo all'uomento del voto. I voti, che voi potete ottenere, dipendono, dalla quantità di stable coin, che avevate il giorno prima. Questa è la total price pool, quindi il reward, che poi verrà droppato, che verrà a droppato, in base a quanti punti, sono stati messi, dall'utente, sul token, che ha vinto, il Bybit. Byvotes. Sembra complicato, magari all'inizio, ma fidatevi, che non lo è, e ovviamente bisogna saper scegliere il progetto che vincerà, in modo tale da ottenere la ricompensa, perché se vado a votare il progetto che non vince, capite bene che, insomma, non ottengo nulla, cioè vado a sprecare i voti, e non ottengo neanche la ricompensa. Ma, comunque, non preoccupatevi, perché tendenzialmente, non è difficile capire quale sarà il vincitore, già verso metà giornata, perché dura un giorno, il Bybit. Byvotes, si capisce qual è il progetto, guardate qui, già che distacco, 3 milioni, 2 milioni e mezzo, qui 32 milioni di voti. Quindi, si riesce a capire, bene o male, qual è il progetto, su cui bisogna mettere i voti, per poi andare a ottenere, eventualmente, l'aerodrop gratuito. Se non siete ancora iscritti, a Bybit, vi ricordo che, qui sotto, nel link in descrizione, trovate il link, per registrarvi, a Bybit, che, tra le altre cose, è uno dei miei exchange preferiti, e che io, personalmente, utilizzo, per andare a fare trading, di criptovalute, e che potete anche ottenere, fino a 30 mila dollari, di bonus, registrandovi, con il link, che trovate qui sotto, in descrizione. Per il prossimo, Bybit, Byvotes, ho visto che, ci sarà già, questo token, che, appunto, proverà, ad essere listato, su Bybit, chiamato, Veracity. Poi, guardate, non so se anche, le altre faranno, la stessa identica cosa, e quindi faranno anche loro, l'aerodrop. Io so, attualmente, di questo Veracity. Poi, quando vedrete, che ci saranno, tutti i vari token, a posto, per i Bybit, Byvotes, si possono poi andare a fare, le eventuali ricerche. Ora, non entro nel dettaglio, su spiegarvi, che cos'è questo token, su cosa non è, dato che, personalmente, non mi interessa andare a investire, in questo token, ma interessa semplicemente, andare poi a ricevere, l'aerodrop, nel caso in cui, il token va a vincere la competizione, quindi, di andarci a investire, a me personalmente, non mi interessa, sapete, tra l'altro, cosa penso, di andare a investire, in criptovalute, che sono, diciamo, Veracity a, 325esima, come market cap, quindi, immaginate, anche solamente, la oscillazione, per quanto riguarda, il grafico, per me, sono cose che, appunto, non vanno a coincidere, con il discorso, degli investimenti, e quindi, io, non prendo neanche, in considerazione, cos'è, questo Veracity, dovrebbe essere un progetto, che va a risolvere, le visualizzazioni fake, sui video, poi, ragazzi, io, su questi token, come al solito, cioè, non ho visto, alla fine, non c'è il prodotto, ti dice, sì, qua, facciamo questo, però poi, il prodotto, il prodotto non c'è, questo, vabbè, secondo me, comando, occhio, in ogni caso, questo Veracity, parteciperà, ai, Bybit, Byvotes, e se voi andate a votare, questo Veracity, ovviamente, vedete di votarlo, se, appunto, vedete che già, sta vincendo, potete ottenere, oltre al, reward, quindi, alla pool, prize pool, di Bybit, potete ottenere, anche un airdrop, direttamente, da Veracity, per ottenere, l'ulteriore airdrop, nel caso in cui, questo token, Veracity, andrebbe a vincere, dovete andare qui sotto, in questo tweet, che magari vi lascio qui sotto, nella descrizione, e, commentare con scritto, ho votato, e, appunto, mettere, lo screenshot del voto, questo può essere interessante, nel caso in cui, ragazzi, ovviamente, ve lo dico già, le ricompense, saranno un po', quelle che sono, però, magari, insomma, c'è meno interesse, su questo tipo di voto, considerate che, comunque, nell'ultimo, buy votes, hanno fatto 32 milioni di voti, qui 24, qui 14, qui 30, qui 29, mettete che, non so, ne fa una ventina, un 30 milioni di voti, che poi, in realtà, non sono 30 mila persone, quindi, magari, riuscite già a prendere, qualche airdrop, magari, 5 dollari, 10 dollari, direttamente da qua, qui, sono altri, 100 mila, in pool, quindi, da airdroppare, quindi, mettete che, magari, siete, non saranno tutti, perché non tutti sapranno, ovviamente, di, quindi, prego, non tutti sanno di, questo ulteriore airdrop, quindi, mettete che, magari, riuscite a prendervi, un altro, 10, 20, 30 dollari, come airdrop, ovviamente, nel loro token, poi, vedete voi, un po' quello che fate, io, personalmente, ve l'ho detto, a me, non me ne frega niente, di questo token, mi interessano, secondo me, sono cose, ovviamente, sempre fuori, dal, cioè, dal normale, e, sapete cosa ne penso io, per quanto riguarda, i miei investimenti, quindi, questo è, qui sotto in descrizione, trovate tutte le info, e spero, poi, che, ovviamente, in questo caso, questo token, vada a vincere, in modo tale, da ottenere, l'airdrop. L'halving, che è l'evento, che poi va a, diciamo, definire, l'inizio, di un possibile bull market, e ricordiamoci che, io non sono un consulente finanziario, questi non sono consigli finanziari, il passato non può, prevedere il futuro, investire all'interno dei mercati, o fare operazioni finanziarie, comporta dei rischi, di perdite capitali, le crypto, non sono mercati regolamentati, perciò, ho occhio sempre a tutte queste cose, qui, l'halving, va a diminuire, la quantità di bitcoin emessi ogni giorno, riducendo di conseguenza, l'offerta, e quindi, tanti mi dicono, ah, ma allora, se l'offerta, viene ridotta, automaticamente, il prezzo salirà, dipende, dipende, se la domanda rimane stabile, cioè, quindi, se la domanda rimane stabile, il prezzo sì, in teoria, dovrebbe aumentare, che in realtà, la, l'offerta di bitcoin, non è che va a diminuire, dato che la supply di bitcoin, è finita, a 21 milioni, quello che cambia, è, l'inflazione di bitcoin, ovvero, la quantità di bitcoin, che vengono emessi ogni giorno, perché, voi dovete considerare, che ogni giorno, vengono emessi tot bitcoin, all'interno del mercato, se questi bitcoin, vengono dimezzati, c'è meno, quantità di vendita, ci sono meno bitcoin disponibili, e di conseguenza, c'è meno pressione di vendita, ok, quindi, il discorso è questo, il discorso che comunque, anche bitcoin, ogni giorno, oggi, ci sono stati, dei nuovi bitcoin, in circolazione, e questo, ovviamente, va ad impattare, il prezzo, se, con l'alving, vanno a, praticamente, dimezzare, la quantità, capite, che va ad impattare, sul prezzo, se ovviamente, la domanda, rimane stabile, per cui, la situazione attuale, è questa, io, ve l'ho già detto, tante volte, nei video, precedenti, per questo motivo, che poi, non è che vi faccio, chissà quanti aggiornamenti, perché la situazione, rimane la stessa, rimane abbastanza, piatta, abbastanza, come posso dire, non c'è tanto di nuovo, da dire, bisogna giocare, sui range, ora, bisogna cercare, di fare operazioni, intelligenti, poi vedete che, tra pochi giorni, uscirà il mio nuovo corso, di analisi tecnica, sui mercati finanziari, e, quello secondo me, è ottimo, per imparare, a capire, e, intendere, quello che sta succedendo, comprendere, quello che sta succedendo, sui mercati, perché, sei giorni fa, questa salita, inizia a preoccuparmi, bitcoin a 25 mila dollari, anche qui, l'incrocio delle due medie, ve lo ricordate, che tutti dicevano, è un brutto segno, io vi ho detto, guardate ragazzi, non ne frega niente a nessuno, se c'è la death cross, golden cross, perché sono, indicatori lagganti, sono indicatori in ritardo, non c'è nessuna sorpresa, è da tanti, è da tanto che ne abbiamo parlato, di questa cosa qui, quindi, per me, ripeto, la situazione rimane la stessa, si può ancora ovviamente, salire sul breve termine, è tutto sommato, la, il livello di bitcoin, non è proprio così, non è una situazione così pessima, cioè, bitcoin attualmente, non è, non ha, cioè, sì, ok, magari su time frame brevi, stiamo facendo un, un downtrend, no, vedete, minimi, più bassi, rispetto a quelli precedenti, massimi, più bassi, rispetto a quelli precedenti, quindi sì, magari c'è, una sorta di tendenza di bassista, però, insomma, su già time frame giornalieri, la situazione non è malvagissima, la situazione comunque, tutto sommato, tiene, il discorso è che, come posso dire ragazzi, siamo all'interno di un range, per, ritornare a sperare, di vedere nel breve termine, un prezzo superiore ai 25 mila dollari, c'è da superare i 24 mila dollari, che non è facile, abbiamo provato oggi in, mattinata, superarli, ma siamo stati ributtati giù, ovviamente, l'SP500 va a incidere, ma vedete che, rimane ancora sotto i 4 mila dollari, che è un livello chiave, in questo caso, vediamo, ok, a mio parere, già, se comunque rimaniamo, sopra i 21 mila dollari, si forma una struttura, che, anche se è laterale, è comunque laterale rialzista, e fa sperare, magari, in un potenziale, superamento, dei 28 mila dollari, però, il problema è che, noi possiamo discutere qua, cosa succede domani, cosa succede dopo domani, cosa succede dopo una settimana, ma, a mio parere, quello che dovete tenere, a mente, è questo, è che siamo, in un, range, ok, siamo in un range, quindi, fino a quando, non usciamo da questo range, guardate quanto è importante, non c'è niente di nuovo, io vi ricordo, che questo range qua, dei 25 mila dollari, per farvi capire, quanto è una zona importante, è stato testato, l'ultima volta, ad agosto 2022, e il prezzo, è andato giù, poi, aveva fatto come, guardate qua, da supporto, al crollo di maggio 2022, qui se non ricordo male, era luna, ok, con il crollo di luna, è riuscito a ritornare su, poi, qui, qui, qui no, qui era 28 mila dollari, questo è importantissimo, tra l'altro, cioè, anche 28 mila dollari, sono una zona veramente importante, qui, con il crollo, a gennaio, con il crollo dell'estate del 2021, e chi si la dimentica più, cioè, sono livelli, 25, 28 mila dollari, importanti, che non possono essere, superati, in una, in un batter d'occhio, ci vuole tempo, e per questo motivo, non mi stupirebbe, vedere il prezzo, lateralizzare, magari ancora qualche mesetto, poi magari riprovarci, poi magari avere anche la forza, di superarli, ma, niente fretta, non c'è fretta, in questa fase di mercato, siamo in una fase di consolidamento, non siamo in una bull run, quindi non è che, eh, il prezzo, è in una fase, cioè, questa è una bull run, ragazzi, questa vi sembra una bull run? A me no, magari uno può dire, eh, magari è una fase iniziale, di una bull run, dopo un meno 67%, guardate che qui, c'è messo tempo, per andare in bull run, perché questa, questa è stata, un eco bubble, comunque in situazioni macroeconomiche diverse, che comunque è durata, anche con una market cap totalmente diversa, cioè, qui è fatto da 3.000 dollari a 13.000 dollari, noi ora siamo a 23.000 dollari, cioè, chi dice, ah, allora se qua ha fatto il 300%, lo rifarà anche adesso, scusate ragazzi, ma non è, cioè, sta sparando numeri, cioè, 300% significa vedere bitcoin a 70.000 dollari, con una market cap, cioè, dai, molto, molto più grande, con la Fed, che sta dando, che ti sta andando contro, le banche, cioè, questi secondo me sono gli discorsi da fare, per cui, la situazione rimane quella che è, siamo in una situazione stabile, ok, non è più di downtrend, quindi il prezzo che scende di continuo e fa, siamo in una situazione in cui però, diventa sempre più noioso, perché, siamo in una fase secondo me di, logorazione, logoramento, in cui magari c'è questa salita qui, poi c'è la discesa, poi c'è, magari il prezzo che non, dopo una settimana è ancora allo stesso livello, cioè, ricordiamoci che tra l'altro, bitcoin adesso è ancora, ai livelli di, gennaio, cioè, passato un mese, siamo ancora ai livelli di gennaio, quando io vi dicevo, ah, prendiamo i profitti qua, a 24, sopra i 24.000 dollari, io, prese di profitto qua, poi mi ha fatto il regalino, che è andato ancora più su bene, però, basta, cioè, per me già, siamo ai livelli di, non è cambiato niente, quello che ho detto un mese fa vale ancora d'oggi, quindi, mi raccomando, fate attenzioni a, queste cose, ricordiamoci, quello che è il 2023, ricordiamoci che manca ancora 400 giorni, e passa, all'alving, ricordiamoci che siamo ancora in una situazione di mercato, macroeconomica sfavorevole, in cui l'SP500 è sotto i 4.000 dollari, questo è, poi, oh, se si va su, sono solo che felice, siamo nella stessa squadra, ripeto, sono io il primo a volere, sperare che si salga, ma, a mio parere, almeno, prima del 2024, salite consistenti, salite bull run, dove, ragazzi, effettivamente, anche il più imbranato, quello che non ne capisce niente, mette soldi a causa, effettivamente fa soldi, non è questa la situazione però, non è questa la situazione di mercato, siamo ancora in una situazione di accumulo, dove non c'è mainstream, guardate, anche le visualizzazioni dei miei video, siamo ancora in, a parte qui, quando è salito tutto, però, siamo ancora in una zona, zona, che è piatta, siamo ancora con, il mio gruppo Telegram, che è rimasto a 7.000, cioè, tra l'altro, sta, cioè, sempre 7.000, non è che cresce, non è che 10.000, perché, effettivamente, siamo sempre gli stessi, ragazzi, siamo sempre gli stessi, che ci guardiamo, ogni settimana, ogni giorno, il mercato, non ci sono, non c'è la corrente, euforica, che poi, ovviamente, se uno, fa un attimo i conti, se non c'è la corrente euforica, forse, non sono, in un cattivo momento, questo, poi, ve lo lascio come spunto di riflessione, ovviamente, non sono consigli finanziari, ciao ragazzi, e ci vediamo, settimana prossima, no, che dico settimana prossima, ci vediamo prossimamente, con dei nuovi video, e ci vediamo,